Non è stato un rimpasto di giunta ma semplicemente del completamento della mia squadra di governo. Con queste parole il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli spiega la nomina del dodicesimo assessore Giuseppe Marletta del PID a cui andrà la delega ai lavori pubblici. Stamattina abbiamo completato la squadra degli assessori. Come voi sapete da alcuni mesi mancava il rappresentante del PID che è un alleato sin dall'inizio della mia elezione e che si era riservato di indicarmi una rosa di nomi e mi è stata indicata una rosa di nomi dalla quale ho scelto l'avvocato Marletta. Quindi completiamo la squadra di governo. Come ho sempre detto in questi mesi nessun rimpasto ma soltanto il completamento. Stamattina abbiamo completato questo iter. Stamattina nella stanza del sindaco c'è stato il giuramento e la presentazione ufficiale. Siamo con il neoassessore Giuseppe Marletta che è assessore alla provincia, un iter ovviamente che conosce già. Sì, l'ho già sperimentato alla provincia qualche anno addietro. Con grande serietà mi sembra troppo presto parlare di progetti. Quello che posso dire senz'altro è che per me è un grande orgoglio oltre che un onere come catanese fare parte di questa squadra della giunta di Catania e poter partecipare a realizzare il bene della collettività. Vedremo nei prossimi giorni quali sono gli impegni più importanti. Certo immagino che anche per le calamità particolari che in questo periodo si stanno verificando ci sarà molto da lavorare. L'impegno ovviamente sarà come la delega, sarà l'assessore ai lavori pubblici o non baderà? Dovrebbe essere proprio quella dell'assessorata ai lavori pubblici e alle manutenzioni. C'è tanto da fare a Catania. C'è tanto da fare. Ci mettiamo a lavorare. L'assessore Arcidiagono che fino ad oggi si occupava di lavori pubblici assumerà invece la delega al personale.